Ciao a tutti ragazzi siamo Cacchistone e voi sono RedenXD Oggi siamo ritornati sulla serie più attesa del mondo O almeno credo La Black Vanilla Beh oggi abbiamo tantissimi Oggi abbiamo tantissime cose da fare Ho scoperto anche che il mio mondo è tagliato Lì c'è una montagna tagliata Lì c'è un'altra tagliata E lì c'è un'altra tagliata Poi c'è il mare tagliato Uh la mia vecchia crafting table Non me la ricordavo qua Uh E ora ciò che è mio lo rompo ed è tutto mio Prendi Sì Dai 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 sali sa Ho fatto una brutta scelta A scendere Per fortuna che è la terra Ecco qua E qua si è seccato Era meglio se facevo qualcos'altro Sono un lurido schifoso Non voglio la pubblicità Qua dovrei farmi una botola Secondo me Vabbè Vediamo quanto serve per fare una botola 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 Ah questa però è la botola di ferro Una botola di legno Ecco botola di legno Non basta nulla Mancano soltanto un po' di legno E basta Andiamo a spaccare il legno Dai 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 Veloce Ecco Dai dai Ora prendiamo l'ascia Misero Ah ecco l'ascia L'ascia di pietra Spacca 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 Uffa Dai Era meglio se mettevano una motosega su Su Minecraft E su Minecraft Ecco qua le nostre due Botole Finalmente Dove cento anni Voglio la pubblicità Le pubblicità sono le mie arcernime nemiche O nemì Nemì Le pubblicità Sono pubblicità pubblicite Perché non so se sono femmine o masche Rompi Stai bene Vabbè chi se ne frega È una cosa Dai 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 Ah quattro Meglio Aspetta Prima prova Prima prova La prova dell'apertura L'ho baggato Fine La prova è stata fatta Quindi Fatto Ora È giunta l'ora Sì Come ogni episodio Non ci deve mai mancare Andare nella miniera Lo sapevo che a nessuno piacerebbe Ma che c'è Io spawn Ma ci sono scale Ma ci sono scale Dappertutto Ma che cavolo Ma che cavolo succede Porca miseria Su questo mondo Prima si dorme E poi si va in miniera Aspetta Oh Si chiude Se non ci arrivano i mostri in casa E a me non piacciono i mostri Si dorme Si dorme Si dorme Ok Buonanotte ragazzi Buongiorno ragazzi Siamo ancora qua Era meglio se morivo Di notte Di Andare in miniera Ma Ma che Perché salo a caso Ah non c'è nulla Credevo che ci fosse Una scala invisibile E la nostra Barca satanica Oh no Mi sono dimenticato Di una cosina Dovevo portarmi Il carbone Per fortuna Che abbiamo La nostra tavola Da laboro preferita La crafting table Mobile E ora che si fa? Ah ora si spacca Mettiamo Mettiamo Una torcia Dove sono le torci? Ah eccole Ecco Mettiamo una torcia qua Mettiamo una torcia Ok Ora si comincia Ragazzi Ho trovato La redstone Davvero E Credo che Dovremmo farci Molta strada Prendiamo Prendiamo tutto Questo carbone Che fortuna Raga Sono stato Troppo Fortunato Meglio Non dire Queste cose Se no Poi Mi viene Nella sfortuna Prendiamo Subito Raga Era Successo Un piccolo Imprevisto Ma ora Non niente Dai 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 Subito Subito Ok Raga Abbiamo Scavato Un bel Troppo Meglio Tornare A casa Dai Via 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 Prendiamo Questo E si ritorna A casa Sì Ma non abbiamo Trovato neanche Una di ferro Siamo Sfortunatissimi Ma Fortunati Almeno Di avere Trovato Una Cosa Una Dai Uffa Uffa Ok Sì Siamo riusciti Ed è diventata Anche notte Beh Per il prossimo Giorno Mi segnerò Di Andare via Da Da Dalla mia base Perché Sapete perché Così potremo Esplorare Andare a vedere Le altre Orizzonti Ma Per oggi Abbiamo fatto Abbastanza Ho un sonno Profondissimo E vabbè Il vostro Carissimo Red Vi saluta E noi ci vediamo In un prossimo Video Ciao 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 Ciao